Consigliere Pignoli, oggi presentate questa iniziativa benefica in collaborazione con l'associazione Family Life. Sì, assolutamente, orgoglioso di questa iniziativa. Domenica invitiamo tutti i cittadini di Pescara a recarsi presso la sede dell'ex quartiere 1 a San Donato dove ci sarà una vendita di beneficenza di materiale vestiario e casalinghe e giocattoli che andranno da 50 centesimi, massimo 2 euro. Il raccolto servirà innanzitutto per portare ancora una volta gli aiuti presso le famiglie terremotate abruzzesi e marchigiane e quant'altre. Questa volta, in questo mercatino, introdurremo anche una variante. E qual è questa variante? La possibilità di raccogliere dei fondi con il ricavato e di destinarle anche parte alle famiglie bisognose di Pescara. La nostra associazione si è creata nel 2015. Noi aiutiamo persone innanzitutto terremotate sia dell'Abruzzo, del Molise e dell'Umbria. E in più comunque aiutiamo le persone che hanno bisogno, sia che sono con carenza comunque di vivere, di tutte le cose di prima necessità. E oggi presentate questa iniziativa in particolare. Si parla di un mercatino particolare? Sì, il mercatino comunque è aperto al pubblico perché oltre a quello aperto al pubblico abbiamo anche il mercatino live. La nostra associazione non è una no profit, quindi non abbiamo aiuti non essendo una onlus. Ci facciamo i nostri fondi con le proprie forze. Questi mercatini ci aiutano a fare questi fondi per comunque aiutare queste persone che hanno bisogno sia di Pescara che del quartiere 1.